Da Roma, dopo 25 anni è come se fosse la prima volta, sì. Abbiamo visto questa parte turistica, è molto molto bella, l'acquario di Genova è bellissimo, per i bambini è una bella esperienza. Domani rientriamo, Pasqua e Pasquetta. Off Marland, beautiful, beautiful, yeah, very beautiful. Non troppo lontano, da Piacenza. Ogni tanto qualche giorno a Pasqua lo facciamo, perché è una città di mare, perché abbiamo due bimbe e ci sono tante attività, poi anche se c'è gente, e comunque, insomma, gli spazi sono vivibili. Cosa vi abbiamo visitato? L'acquario di Genova, il Museo di Storia Naturale e oggi andiamo nella città dei bambini. Laila, ti piace? Sì! Da Molto, in Genova, sì, per la prima volta. Siamo in un'atmosfera italiana. Da Siena, che è una città indubbiamente bellissima e per visitare anche l'acquario e far vedere tutte le meraviglie alla bambina. Staremo qua anche domani e andremo nella città alta, sì, a visitare anche la casa di Colombo. È veramente bellissima! Non c'è niente che non piace di Genova. Io arrivo dalla Calabria e mi trovo benissimo qui a Genova, una città meravigliosa, piena di iniziative, per cui... e poi la giornata è splendida. Abbiamo visitato alcune chiese stupende, l'Annunziata, San Filippo, c'era delle chiese veramente stupende e poi stiamo facendo un giro adesso al Porto. Anche i servizi sono eccellenti. Autobus, metro, funzionano bisogni. Poi il fatto che non si paghi è una cosa ottima, tra l'altro, per inciso. A pomeriggio faremo un giro con qualche barca per vedere Portofino.